Presentazione in Confindustria di una iniziativa che riprende un po' le iniziative del passato ma che ha una rilettura completamente nuova, che è quella della biodiversità, di un mercato che riporta l'agricoltura a quella del passato ma con tecnologie assolutamente moderni. Sì, un approccio diverso, nuovo, che vuole integrarsi con il tessuto canavesano per fare ricettività e valorizzazione dei prodotti locali. Come? Come è il modo in cui noi vogliamo farlo con le tre terre canavesane. Parte un evento lungo sei mesi come l'Expo che coinvolge San Giorgio, Castellamonte e Aglie. Vuole essere un desco, un progetto legato al tavolo, le ceramiche di Castellamonte, i prodotti della terra che arrivano da San Giorgio nel Castello Ducale dove si coltivava per i re queste tre terre importanti che vogliono mettersi al servizio del territorio canavesano. Il luogo migliore per presentare una fiera, un mercato, mi è sembrato ragionevolmente essere Confindustria, ad Ivrea, non a San Giorgio. Perché? Perché è un approccio diverso. Vuole essere un progetto di accoglienza di prodotti che arriveranno da tutta Italia, comunità del cibo, uomini produttori che presentano dei prodotti loro, che si confrontano con i nostri, che hanno dei valori nostri, che possono essere conosciuti e devono essere conosciuti a livello nazionale ed internazionale. I partner del progetto sono quelli giusti, sono Confindustria, sono le fondazioni bancarie, il centro per l'impiego, gli organismi di ricerca universitari, sono tutta una serie di soggetti che sembrano eterogenei. Viceversa, in un mercato innovativo, una fiera innovativa come quella che vogliamo impostare insieme su San Giorgio, penso che si riesca a trovare un buon punto di incontro dove si possono scoprire in questi giorni di maggio, il 9 e 10 maggio, tante cose interessanti per i canavesani e non solo. Per San Giorgio è una scommessa, quella della piattella, già un po' vinta perché siete già finiti sullo spazio, e poi perché la tecnologia ormai sta dando a questa vostra biodiversità una qualità anche scientifica di livello internazionale. Con questa fiera vogliamo fare un passo in avanti. È vero che con la piattella e con la società ArgoTec, l'Agenzia Spaziale Europea, stiamo collaborando con Samantha Cristoforetti da diversi mesi per un progetto alimentare importante in cui è presente la piattella e questo ci aiuta dal punto di vista delle relazioni con la Samantha a costruire un progetto per il futuro. Ma soprattutto la ricerca, quello che deriverà da queste sperimentazioni fatte nello spazio, consentiranno di portare nuovi e importanti contenuti ad un progetto che vuole essere un pioniere sul territorio di questo approccio nell'agricoltura di precisione. Agricoltura di precisione che vuol dire sonde, vuol dire sensoristica in campo, termocamere, per prevenire in un progetto di resilienza agroalimentare molto importante tutta una serie di problematiche che si possono combattere non con la chimica, ma con la volontà e con l'alta tecnologia e la stessa tecnologia ci sarà utile per caratterizzare in modo particolare questa fiera che sarà una fiera con componenti tecnologiche, dalle telecamere alle sensoristiche ambientali, al coinvolgimento del museo enografico con le riprese all'interno, con le webcam che consentiranno non solo a coloro che saranno all'interno del museo di degustare i vini nell'enoteca e ad altri di poter avere immagini e dati sull'accessibilità a questi luoghi che potranno essere utili per l'evoluzione di questa iniziativa che nasce quest'anno ma ha grandi ambizioni di collocarsi nel territorio cannavesano come punto di riferimento per le fiere che valorizzano tutti i prodotti del nostro territorio e non solo la piattella o l'erbaluce ma attraverso piattelle ed erbaluce aggregare gli altri che possono crescere con noi per valorizzare realmente l'agricoltura del territorio. Confindustria cannavese sta diventando un po' una specie di incubatore di tutte le iniziative del territorio oggi la presentazione di questo progetto sulla biodiversità ma abbiamo assistito anche a presentazione di altri eventi e altri progetti, insomma passa di qui lo sviluppo del cannavese. Sì, come stavi giustamente dicendo stiamo cercando laddove ci viene richiesto insomma di ospitare la promozione di iniziative del territorio anche di natura agricola come quella di oggi piuttosto che culturale, abbiamo avuto qua anche presentazioni di libri, il vescovo, vari personaggi perché crediamo tantissimo nell'espressione del territorio quindi del cannavese nel suo agglomerato quindi di agricoltura, di impresa, di cultura e di luogo dove è piacevole venire a vivere e lavorare. Belle iniziative ma quello che traina è l'industria ovviamente. Com'è la situazione ad oggi nel territorio clavesano dell'industria per i dati, per le ricerche che state facendo voi? Anticipo che presenteremo il 15 maggio nella parte pubblica della nostra assemblea proprio un aggiornamento dei dati puntuale nel 2015 dopo aver già fatto uno studio nel 2012. Dalla prima elaborazione di questi dati che non è ancora completa, mancano pochissimi giorni ovviamente si evince che il territorio del cannavese ha retto molto meglio di altri territori a livello regionale gli anni più difficili della crisi, quindi l'elaborazione del dato mette a confronto 2007, 2008 e 2009 rispetto al 2014. Quindi il messaggio che vogliamo trasmettere è che questo è un territorio dove è giusto forse anche doveroso continuare ad investire. Fra le eccellenze, sappiamo che fra le eccellenze c'è anche l'industria manifatturiera ma fra le eccellenze può entrare anche il turismo? Sì, è un po' una scommessa da alcuni criticato, per noi l'industria del turismo è un'industria come tutte le altre, non manifattura ma di servizi e soprattutto il movimento che porta il turista porta anche imprenditori, porta anche persone di altri luoghi che venendo qui per piacere possono anche decidere che si trovano talmente bene che possono anche investire in termini di impresa. Grazie 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 Grazie